Per me, per me una miletà è impossibile, ho seguito l'uomo si è spostato, si è spostato da solo, lei l'ha fatto bene se non mi ha fatto bene se non mi ha fatto bene un troppo macchina un troppo macchina un troppo macchina un troppo macchina è un gol è un gol, fantastico dei capitani! 2.67, paolo Paulinho, 3.60, un tiro illogico al volo, incredibile gol di paolo Paulinho, assolutamente bellissimo, fuori best, Dick, Jay, Ciccate, Mastro, Zelloni, Futurper, e già libero! Che serra! Lì di Mastro mi c'è presa! Mi è già ridotto quando in seconda era il tuo, non è durato! Poi era noi! Comunque, il Mastro mi prende un po' la portavolta! Un gol bassetto di Best Medio, al 45, 2-0 con il Cipom, delicatissimo Best Medio, delicatissimo Best Medio, 2-0, Best Medio con il Cipom! Un gol bassetto di Paolinho, 4-1 in dieci! Sambunga allucinante di Paolo, che prende in pieno l'incrocio, ed è 4-1! E' poker! E' l'ombrelino e l'ombrelino e l'ombrelino! Hartrick! Di Ragazza! Tre vittorie consecutive! Incredibile! Che gol! Che gol! Di Paolo! Che gol! 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 E' partito Azzonodoi, è partito Azzonodoi con Turflesch, Azzonodoi con Turflesch, Azzonodoi con Turflesch, è il 40, 1-1, su assist dei Kun, Scream, che bellissimo cipom di entrambi, cipom dei Kun, cipom di Azzonodoi, 1-1, E' partito 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 E' partito